Un giorno lungo un anno è il tema del calendario 2017 della Marina Militare, un giorno di lavoro e di vita reale in mare dall'alba alla sera immortalato in 12 scatti di marinai e marinaie. Il calendario parte da un'alba e arriverà a un tramonto e farà vedere tutto quello che la Marina sa proiettare non solo in mare ma anche in cielo e sott'acqua nelle sue peculiarità, nelle sue specialità. Il calendario 2017 della Marina presentato al Salone di Genova ritrae vere e istantanei momenti di vita e di professionalità dei suoi equipaggi. 12 immagini inedite scattate durante quella che potrebbe essere una giornata tipo di lavoro su navi, sommergibili, aerei, elicotteri e nelle basi. Immagini che non lasciano indifferenti come confermano Linda Cerruti, Elisa Bozzo e Costanza Ferro, tre atleti della squadra della Marina e della Nazionale di Nuoto Sincronizzato reduci dalle Olimpiadi di Rio. Delle bellissime foto suggestive che mostrano il mondo della Marina Militare. Si va dal rifornimento in mare delle navi della Flotta Verde al lavoro in sala macchine, dalla vita nei sommergibili all'incontro tra tecnologia e tradizione rappresentate dalla portaerea Cavour e dalla nave Scuola Vespucci. La nave più bella del mondo che chiude il calendario ritratta al calare della sera avvolta dal tricolore per simboleggiare l'appartenenza ad un'Italia che ama la Marina. Sarà possibile acquistare il calendario 2017 presso lo stand della Marina presente al Salone Nautico o tramite la homepage del sito internet della Forza Armata. Comprate il calendario della Marina Militare perché oltre a essere un bellissimo calendario è a sostegno della Fondazione Teleton.